Quasi un milione di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo, 14 corsi organizzati su tutto il territorio provinciale, 226 posti disponibili, oltre 11.000 ore di lezione tra aula, laboratorio, stage ed orientamento. Sono queste, in sintesi, le cifre degli interventi formativi approvati dal Servizio Istruzione, Formazione Lavoro e Sviluppo Economico della provincia di Lucca. Sull'asse 2, occupabilità del programma operativo regionale finanziato col Fondo Sociale Europeo. Una serie di corsi di formazione, cui sono destinate oltre 952.000 euro di risorse dell'Unione Europea, finalizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione straordinaria e mobilità ed immigrati. I progetti che saranno realizzati nelle tre macro-aree della provincia, Piana di Lucca, Valle del Cerchio e Versilia, formeranno addetti alla lavorazione e alla commercializzazione di prodotti della panificazione o pasticceria, addetti alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche, tecnici del disegno industriale con utilizzo delle tecnologie informatiche, addetti all'approvvigionamento della cucina e del trattamento delle materie prime, addetti all'installazione e manutenzione degli impianti termoidraulici, tecnici della programmazione e dello sviluppo di siti web, addetti all'assistenza di base. Al termine dei percorsi formativi, a coloro che supereranno gli esami finali, sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale di addetto o di tecnico. Le lezioni avranno inizio a partire dal prossimo mese di settembre.